Con delibere della Giunta regionale della campagna in tema di politiche sociali, sono stati varati ieri tre importanti provvedimenti a sostegno delle famiglie e dei cittadini più fragili e vulnerabili. Per i caregiver, con 12 milioni di euro di investimenti, si afferma il riconoscimento e il sostegno del ruolo del caregiver familiare. Viene infatti finanziato il bonus in favore delle persone con disabilità per il sostegno dei caregiver familiari, in coerenza con le indicazioni dell'osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, che potrà essere utilizzato anche per attivare misure previdenziali. Al via inoltre il registro regionale dei caregiver familiari, a cura degli ambiti territoriali e i percorsi di sensibilizzazione informativi e formativi per il corretto svolgimento del lavoro di cura. Tali provvedimenti saranno integrati con ulteriori misure volte a sostenere i caregiver e a garantire forme di sollievo dal carico di cura, ricorrendo all'attivazione di voucher specifici con le risorse derivanti dal ciclo di programmazione 2021-2027. Per quanto riguarda affidi e adozioni, con un investimento pari a 350.000 euro a valere sui fondi intese, vengono incentivati i percorsi sperimentali per gli affidamenti e le adozioni difficili, finalizzati all'individuazione, formazione e accompagnamento di famiglie disponibili all'accoglienza in affidamento, ovvero in adozione di minori sotto la tutela dell'autorità giudiziaria minorile. La misura a supporto degli ambiti territoriali prevede l'accompagnamento, sia professionale che economico, nella fase di abbinamento e inserimento del minore nella famiglia, sulla base di progetti individualizzati di accoglienza familiare di bambini e ragazzi in situazioni particolarmente difficili, dando priorità ai minori con disabilità, con patologie sanitarie, in età avanzata o con più fratelli. Ed ancora, la Regione ha rinnovato per l'annualità 2020-2021, in continuità con il biennio 2018-2020, i voucher per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, di tipologia mensilio annuale, per il percorso casa-scuola-università, destinato esclusivamente in favore a studenti residenti in Campania, di età compresa tra gli 11 e 26 anni, con un investimento di 5 milioni di euro. Si rinnova e rafforza dunque l'impegno concreto della Regione Campania, a sostegno delle fasce deboli della popolazione, e viene concretizzato il supporto alle famiglie in difficoltà in vari ambiti della vita quotidiana, gravati da forme di disagio e marginalizzazione.